Tanta gente ieri sera a Firenze per Maurizio Landini e la sua coalizione sociale. Il popolo di quella sinistra, alla sinistra del PD, che non è contento di quello che sta facendo Renzi, che non è contento dei suoi atteggiamenti, che non è contento delle politiche, del Premier, soprattutto sul fronte del lavoro e della tenuta sociale. Maurizio Landini ha tenuto a ribadire che il suo non è un partito, ma ha tutto sommato un punto di vista in cui a Firenze ieri sera in molti hanno dimostrato di credere. Il nostro problema non è assolutamente né fare politica nel senso di sostituirci ai partiti, né di candidarci alle elezioni. Se poi si dice che il sindacato fa politica, assolutamente sì. L'ha sempre fatto del resto in quel paese qui. Se la CGL ha 100 anni è perché è sempre stato un soggetto che oltre a rappresentare i lavoratori nei luoghi di lavoro ha avuto anche un'idea di società. No, noi ci stiamo muovendo in tutta Italia, perché non un partito, non lo devono chiedere a me, io non lo so, lo chiedono alle forze politiche. Io faccio il sindacalista e sono qui a proporre tutte le persone una battaglia per cambiare questo paese, per migliorare le condizioni di chi lavorano e per introdurre elementi di giustizia sociale. Che questo insieme di questioni ponga problemi anche alla politica fuori dubbio, ma questo sarà un problema che riguarda la politica, non che riguarda noi. Noi facciamo un ragionamento che parte da un ragionamento puramente sindacale. Oggi dobbiamo partire da un fatto, abbiamo fatto siopero, abbiamo fatto mobilitazioni, non abbiamo ottenuto nulla. Il governo è andato avanti uguale, come se non fosse neanche successo. Oggi c'è una fase di divisione, di frantumazione del lavoro e c'è un'idea della politica che è quella di cancellare tutti i corpi intermedi di rappresentanza. C'erano fra gli altri Daniele Alastri, la consigliere regionale che ha annunciato la sua non ricandidatura nelle file del PD. C'era ovviamente Tommaso Fattori, che sarà il candidato governatore della lista che si colloca alla sinistra del PD. C'erano tanti amministratori. C'era anche qualcuno del sindacato, come Fuso, che ha tenuto a dire sono qui per osservare, a me un sindacato che fa politica non piace.